Grazie, buonasera. Questa è la mia prima presentazione che faccio quest'articolo qui, però prima di iniziare le onde medie, lunghe, lunghissime, voglio presentare questo e in merito di Fabrizio, Italia Whiskey 5, Delta Brau Yankee. Per il momento non ho potuto venire per problemi familiari che la moglie sta un pochettino male, per cui non ho tanta presentazione, non ho tanta documentazione, però la documentazione si presenta sul mio sito, parlando solamente sul digitale S, DBS, automaticamente sul mio sito c'è tutta la documentazione, perché non ho potuto portare la descrizione, perché allora porto un discorso molto lungo e ci vogliono un paio di ore. Questo io devo ringraziare a Fabrizio che mi ha dato l'opportunità, una mano, di costruire tutta l'apparecchiatura che c'è dentro, di un amplificatore, di un DDS, di un modulatore e uno serialista che prende tutti i segnali in Q. e lì poi vengono codificati automaticamente sul segnale in digitale. Poi abbiamo il ricevitore e si presenta qui come vedete. Io mi avvicino perché porto disturbi sul sistema. Allora passiamo dal discorso questo qui. C'è una presentazione? Sì. No, non è lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Quando presentiamo serialisti che è questo qui, che codifica il segnale della porta USB, e vengono codificati da un segnale... Questo qui è la parte più importante, che entra il segnale della porta USB, perché viene utilizzata una schetta, la WinTV, che è tutto il segnale digitale che è presente nel computer, lo riporta in uscita. Qualsiasi segnale, mettiamo una telecamera analogico digitale, oppure una telecamera USB, automaticamente lui lo codifica con la schetta WinTV. Io per il momento non ce l'ho il computer, non posso vedere. Entro il segnale di qua, escono i segnali U, I e Q, vengono codificati nel modulatore. Questo segnale qua entra sul modulatore e codifica il segnale, diciamo, in un sistema tutto, diciamo, dall'analogico a tutto a digitale. C'è un microchip interno che ha di 28... Adesso non mi ricordo i numeri, c'è una cosa che non ho studiato per il momento, però questo è l'esempio. Automaticamente esce un segnale da 0,1 mW, amplificato con un amplificatore, che entra un segnale, che escono 400 mW. Entra su un amplificatore, sempre digitale, da 400 mW, che escono 20 W. Questo è un sistema molto, diciamo, un po' difficile arrivare a questa conclusione, perché non è facile montare, costruire. C'è da programmare anche la picca. C'è una programmazione, qua c'è una picca da programmare. I segnali che arrivano dentro questo, FT3223, vengono codificati tramite la picca. Automaticamente noi abbiamo adesso qui una scheda, che è tutta programmata qua dentro. Adesso non c'è nessun segnale, se vedete non c'è nessun segnale. È tutta programmata qui. Perché avendo dovrei portare il computer, dovrei portare il programma, dovrei portare... Cioè, abbiamo un lavoraccio molto, molto lungo. Per cui automaticamente appena parte il segnale, lui riesce a codificare che io ho messo una scheda, automaticamente lui parte il segnale del beacon. perché non lo posso utilizzare come anche beacon. Questo ringrazio sempre a Fabrizio, Italia Whiskey DBJ. Passiamo al variometro, perché la cosa più importante è questa qui. Mi puoi passare? Dove è? Non c'è. Il variometro è un accordatore di antenna. Lo possiamo mettere sotto tetto, oppure sotto un campo, però deve essere lavorato automaticamente in questo sistema che viene girato, per trovare la risonanza dell'antenna. Diciamo, per fare questo, io ho dovuto attribulare, per trovare l'impedenza esatta, per ogni bobina, perché qua sono 15 spire per 7. l'impedenza esatta che ho trovato è stata la terza spira. Questa qui è l'ultima, che è più piccola, che vedete, porta tutta la massa, questo è tutto il sistema di massa. Di fatti qua dobbiamo usare, più massa abbiamo, nel sistema, anche per terra, io ho utilizzato, sul balcone, facendo le prove, che c'è il filmato, me lo puoi mettere fuori il filmato? L'utilità sul balcone, 20 metri di filo, sono 10 pezzi di filo, tutti teocciliati, per avere più massa possibile. E poi sul balcone, si vedrà anche l'antenna, vediamo sul filmato, si vedrà, il deposito dell'antenna, che sono 16 metri di antenna, automaticamente io, girando il variometro, portando il variometro fuori impedenza, riesco a accordare l'antenna a 16 metri, ma in realtà, non ho una potenza molto elevata in uscita, perché automaticamente la perdo dappertutto. Se avrei un'antenna, 158 metri di cavo lungo, avrei un buon risultato, un'impedenza molto elevata, un buon guadagno di trasmissione. Per cui io posso, ho portato solamente questo da vedere, a quale circonso. Però per utilizzare questo, ci vuole questo qua, questo è un impedenzimetro, che devi accordare, sia la radiofrequenza, e accordare la radiofrequenza in entrata, della radio, che accorda l'impedenza in uscita, e trovandoli nella posizione esatta, ho trovato l'impedenza in questo portato qui. E qui ho stazionarie, una a uno, con 50 ohm di impedenza. Di fatto, io per essere sicuro, che funzioni alla radio, tra i trasmettitori, se questo qui, che vi presenterò, dove sia ancora lì? Dovevo portarmi il filmato, se riesci a trovare. Automaticamente, qui, arrivando questo, questo filmato, l'ho portato all'aria di magenta, ringraziando il Mauro, Mauro o Marco, adesso non mi ricordo esattamente, gli ho detto, senti, mi puoi provare, per vedere se ci sono armoniche, perché non vorrei fare una brutta figura. Sì, sì, porto, l'ho portato, quando l'ha messo sotto, sono rimasti le persone, ah, non è possibile, non è possibile, dove sono le armoniche? Siamo girati, la frequenza, sono arrivato a 425 kHz, abbiamo trovato la seconda armonica, e siamo già fuori banda, sono andato ancora più giù, siamo andati a 430, abbiamo trovato la terza armonica, se ci ho filmato, si vedebbe. Lui ce l'ha, quello lì dell'analizzatore di spettro, non si può vedere. Vabbè, questo qua l'ha misurato, l'abbiamo visto, l'ho guardato, e ho detto, non è possibile arrivare a questo punto, anzi, con un watt di potenza, che trasmette, non c'è nessuna armonica, vuol dire che posso andare tranquillamente, e da stamattina che lavora, su un, se volete vedere, perché sul filmato c'è, c'ho stazionario zero, e un'impedenza di 2-3 watt, per cui automaticamente, la radio funziona perfettamente, anche volendo, se uno vuole fare la posizione, in trasmissione, può trasmettere. Può fare i collegamenti di ex, può fare i collegamenti in distanza, secondo se c'è la propagazione, non è che fai la propagazione, è roba di tutti i giorni, qui la propagazione avviene, a calare del sole nel tramonto, e dura la bellezza di tre ore, dopo possiamo stare fermi, per cui io ho il beacon, che trasmette, con un watt, a 4,72 e 200, 24 ore su 24, chi mi ascolta, manderà un'informazione, manderà qualche informazione, eccolo qui, stiamo qua misurando, sull'analizzatore di spetro, che l'ho portato all'aria, come ripeto, e qui c'è il filmato, potete vedere esattamente, tutto il procedimento, che avviene, io, mi credete, io sono, mi sono buttato qui, a 5 anni che sto in ascolto, che noi siamo, sempre l'ultima ruota, nell'Italia, arrivare in certe frequenze, di fatto noi trasmettiamo, con un watt di potenza, l'Inghilterra, la Francia, diciamo, l'Ussemburgo, i tedeschi, che tutti hanno avuto già il permesso, tanti anni fa, noi siamo nati, ha dato l'autorizzazione, il Ministero dello Sviluppo e l'Economico, è stato il febbraio del 2013, per cui automaticamente, siamo sempre noi l'ultimi, qui, insomma, vedete, questa è la nota, del CVW, qua dalla portante, per cui spurie, il segnale è molto più pulito, qua lo metto sulla radio, che piano piano andiamo a spostare, lui sposterà la frequenza, per andare a trovare l'armonica, la seconda armonica, a 425, infatti lui sta parlando, dice, non è possibile arrivare in queste condizioni, eccola qua, questa è la seconda armonica, qua sotto, troviamo la terza armonica, che si trova qui, ma noi siamo in una frequenza, a 425, non siamo in frequenza, in banda amatoriale, siamo in banda fuori amatoriale, di fatti, quando il segnale mi sta dicendo, è troppo impossibile, mi dice, arrivare a questo punto, qua dovrebbe arrivare, dopo mi farà vedere, esattamente la terza armonica, una terza armonica, con non potenza, dovrebbe essere questa qua, di fatti lo dice, sì, di fatti questo segnale, questa è la seconda, e questa è la prima, dove c'è la nota del CVW, adesso qua dice, spostiamo la frequenza, e troviamo esattamente, la terza armonica, per quello apparato, non sono, sono rimasto, scioccato, e qui di fatti, adesso lo fa vedere, che in questo punto qui, c'è la terza armonica, diciamo, del segnale, qua, non si vede bene, 430, cioè, io, quando l'ho messo sotto, se non è possibile, arrivare alle condizioni, cioè, non ho parole, da arrivare, una conclusione finale, questo qua, devo ringraziare, l'autore, l'autore, che l'ha progettato, io l'ho copiato, l'ho realizzato, hanno portato in sistema Golf Whisky 3 Unifore Eco Papa è stato l'autore lui io l'ho progettato e ho visto che mi ha dato grande soddisfazione in merito anche ho utilizzato un rosmetro della CB modificato per la banda per 472 perché se noi mettiamo un rosmetro che usiamo normalmente dell'HF non funziona non ti dà zero non ti dà stazionare non ti dà niente le potenze non allora dovreste musicare qua dentro c'è tutta l'apparecchio dovrebbe essere nell'altro filmato perché ho fatto tanti filmati per fare vedere cioè il discorso è questo io sono contento spero che siete contenti anche voi questa è la mia prima presentazione che faccio non ho altre parole da aggiungere per cui questa qui in futuro sarà un'antenna che io potrò qua visto qua ci sono onde stazionare che siamo a uno e qui adesso c'è il bariometro messo sul bacone come ho detto prima come ho detto prima per fare le prove non ho un giardino io ho tutte le prove che ho fatto qui questa è l'antenna che è lunga 16 metri poi per terra scendo per terra c'ho tanti caviti per terra che mi indico sono 5 pezzi di filo di 20 metri che faccio la posizione della massa questo è il bariometro che ho fatto vedere adesso questo momento che accordo con 50 ohm di impedenza in uscita qua c'ho 10 12 14 16 16 allora la 12esima spira ho trovato l'impedenza esatta per andare in trasmissione e di fatti come ho visto quello bianco che vedete sul bariometro questo di qua c'è un aspiratore ho provato sulle altre impedenze stazionari 7 8 potenza sfasata cioè non riuscivo sono stato la bellezza di una settimana finché ho trovato l'impedenza giusta qua ho variato i variometro per portare onde stazionari alti da 1 1.4 1.5 adesso lo vedrete sullo strumento che si presenta eccolo qua però la potenza è stata molto elevata per cui non c'è una variazione frequenza giusta anche l'impedenza dell'antenna non è corretta se fosse un'impedenza giusta di 50 ohm avremmo stazionare a 0 la potenza giusta di 5 watt adesso riporto come era prima sempre l'antenna quella posizione e vedremo la posizione esatta di stazionare 1 o dire che io il variometro è riuscito ad accordare 16 metri di cavo se io metterò un cavo di 158 metri vuol dire che ho maggior potenza perché ho utilizzato un integrato che mi potrebbe dare al massimo sui 30 watt ma non ci credo però dovrei provare quando porterò in fase l'antenna in costruzione diciamo in presso di luglio quando fa caldo possiamo stare fuori anche una nottata vi ringrazio spero siete state contenti e io non ho altra parola da aggiungere io vi ringrazio anche a Claudio Re mi ha dato questa possibilità di poter venire il primo meeting che ho fatto sull'autocostruzione complimenti complimenti a te per tutto questo si vede che c'è tanta passione tanto sforzo e tanto tempo dedicato e a volte in prove così che piano piano chiariscono gli aspetti di arrivare a un risultato tramite mille difficoltà e mille ostacoli da da superare per questo ti è stata assegnata e te la dà il segretario Bruno Pecolato uno dei premi della Targa Baragona che è stata istituita Musumeci questa sì è stata istituita in ricordo del nostro amico Baragona che è stato con noi tanti meeting prego prego ben chiaro io facevo tutto il possibile di arrivare a una conclusione diciamo accontentare a lui e anche devo ringraziare al gruppo Radiorama perché è stata per me la prima occasione che ho fatto contento a loro però io ho tanti progetti non portato solamente uno perché ho portato anche dei progetti dei beacon perché fa tutte le bande dai 10 ai 160 ho realizzato tutti da me io ho un sito se andate sul sito cercate con il google K1HG e qrp troverete tutta la mia documentazione dei beacon dai 10 ai 160 e più dentro c'è l'antenna dalla multintenna che lavoro sotto il tetto un'antenna che non è di tutti non è possibile tutti mi dicono non risuona l'antenna non risuona l'importante è che fare esperimenti e arrivare a una conclusione ci sono delle foto che sono arrivato fino in non si chiama c'è un'altra dell'anca con l'isola sotto l'India sono arrivato sotto l'India l'isola l'anca Sri Lanka sono arrivato lì con 100 mili watt sui 14 e 08 14 002 8 figurati io sono rimasto lì non è possibile con 100 mili watt vabbè io Claudio ti ringrazio per la tua bontà aspetta un attimo allora raccontaci qualcosa di più allora questo è un ricevitore immagino DVB-S2 ok questo è un ricevitore digitale normale classico ricevitore ricevitore DVB-S2 poi qui qui mi sembra di vedere una ground plane forse questa è una mini ground plane che io utilizzo per fare i lavori in casa per la sperimentazione a 1200 e questo è sempre questo qui è omidirezionale e questo è idem lo stesso solamente su questo qui darvi delle spiegazioni è un complesso però io parlo sul sito ho tutta la descrizione perché essendo da soli puoi scrivere con calma tutte le descrizioni tutti gli analisi tutte le progettazioni tutto infatti sul mio sito troverete tutto quello che io sto presentando io ho 5 siti non ho uno solo 5 siti che parlano tutto tutto sull'analogeno del beacon parlano della diciamo del QRSS parlano sul digitale parlano di qualsiasi roda quindi allora questo qui è il modulatore DVB-S2 questo è il modulatore che è sul piccolo del modulatore del siamo del digitale che stavano trasmettendo il segnale di fatto come ho detto prima tirando via il SD il segnale non esce allora va a questa antenna se ho capito bene allora andiamo a questa antenna che va in trasmissione questo va in trasmissione questo riceve abbiamo solo un amplificatore di antenna questo qui è un amplificatore di antenna classico lo faccio vedere quella è la linea di discesa di busat non è un amplificatore di fatto non c'è nessun segnale però il fatto che vada via il segnale che vada e venga vada e venga perché sono disturbi dei segnali perché l'antenna è molto vicina io dovrei mettere l'antenna a meno 5 metri distante l'attenuazione comporta questo segnale che va e viene poi qui io vedo un oggetto un oggetto no non esattamente però diciamo questo oggettino è stato fatto ieri sera siamo iniziati alle 11 il signor Marco Marco di Massoni l'ha buttato subito lì subito devo portare qualcosa antico progettato allora questa è l'antenna invisibile la mini whip no questa è la mini whip questa è definita da il signore che non è potuto venire qua Pierluisi Poggi ha fatto un post sul blog e l'ha definita l'antenna invisibile e gli ho detto guarda che non è tanto invisibile gli ho spiegato perché ma adesso non entriamo nei dettagli è vero ecco non ci pigliamo mai troppo sul serio ogni tanto quando qualcuno ha qualche idea diversa si dice la cosa questa è quella realizzata Marco per cui eccola qui ha buttato 4 componenti fatte su mille fori fatte subito volante quando l'ha provata ieri sera ho detto metto sui 40 metri attacca l'apparato sui 40 metri tira l'antenna Antonio stai ascoltando sì sì ti ascolto eccola qui il signore che ha presentato vieni Marco esatto se poi vi fermate stasera lavoriamo assieme tutti semplicemente non è una mia invenzione era semplicemente per dimostrare a tutti che con 4 componenti e una basetta mille fori quindi alla portata di tutti veramente credetemi si può fare questa antenna attiva che non serve evidentemente per ricevere il digitale terrestre ma serve per ricevere le bande basse quindi onde lunghe onde medie e una buona parte delle HF quindi dicevo con 4 componenti e una piastrina di rame insomma si può ottenere una buona ricezione delle gambe radio radio e delle onde medie senza evidentemente tirare dei dipoli che occupano spazio che magari appunto non è disponibile nelle città come nel mio caso no volevo dire invece spendere due parole sul progetto realizzato da Antonio che è quel trasmettitore non è stato progettato da lui ma da un radiomatore inglese Antonio invece l'ha ampliato inserendo al posto del quarzo un oscillatore di DS il progetto prevedeva l'impiego non avendo trovato i quarzi riesco ad arrivare sulla banda lì adesso ne sto sperimentando un altro che dovrebbe arrivare a 137 kHz sperando che arriviamo anche lì l'antenna già è pronta il prossimo anno se Claudio mi inviterà mi dà questa l'opportunità poterò i 137 kHz vedrete una bobina che sembra una EH io già sembra una bobina che sono tanti fili di un millimetro ho messo dentro la bellezza di 171 metri di cavo non è una cosa fatta così è fatta come questa che non si muove il filo di rami di un millimetro sotto pressione vi do la dimostrazione su questa mano qui ci ha lavorato tre ore per avvolgere il filo mi ha fatto la bolla che non pensavo di arrivare in queste condizioni ho avuto il risultato non ve lo dico adesso ma ve lo dirò il prossimo prossimo anno Volevo dire si spieghi un attimo si spieghi un attimo appunto il discorso del del quarzo no sull'oscillatore locale da 500 kHz che di fatto è stato sostituito con un oscillatore un VFO un VFO controllato da un DDS quindi è un circuito digitale col display che 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 dà la possibilità eventualmente di variare la frequenza in modo con diciamo con un sistema digitale altro da dire? Niente io sono contento per la prima volta che siamo venuti qua con la presentazione se Claudio il prossimo anno mi dà l'opportunità porterò il 137 kHz da arrivare a un buon voglio provarlo se mi dà lo spazio qui verrò un giorno prima e monterò l'antenna lo spazio mi dà lo spazio perché non sono un patrone devo essere autorizzato fai quello che vuoi il prossimo anno la trasmissione sarà al di sotto dei 137 kHz te lo ripeto ancora non pensavo di arrivare a questa opportunità io grazie anche a tutti voi che mi avete ascoltato alla prossima sarà una cosa più accettabile se riesco se riesco porterò 2-3 beacon della mia costruzione fino anche ai 160 utilizzando sempre il DDS che trasmette ai 160 ok grazie quello lì è un kit no questo qui è sempre realizzato lui anche io l'ho realizzato la stessa cosa il kit sarebbe il DDS comprato dai cinesi esatto questo che è il DDS voi avete fatto il circuito stampato il picchio programmato tutto il resto che vedete già comprato è roba che si compra è normale il resto è commerciabile non so se lo sapete o se lo devo chiedere all'altro all'altro amico ho visto nell'articolo che c'era un sintonizzatore della Sharp quello ti ha così in un progetto stiamo guardando no appunto perché io ho comprato questi costavano un centesimo per un centesimo ne compro dieci esatto solo che poi bisogna avere il pic per impostargli la frequenza e già lì andiamo in un campo che non c'è tanta voglia allora se trovo qualcuno che diciamo da una mano c'è qui perché il Fabrizio anche volento lui ha realizzato un ponte ripetitore da 1200 a 10 giga in digitale quello lì con i trombini quello lì con i trombini quello che dicevi tu di portare gli strumenti e tutto però il signore non è potuto venire però lui aveva voglia di presentare venire al prossimo anno sperando che lo dico la moglie che ci sia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti